Schierati assieme e compatti i comuni del Golfo di Policastro per scongiurare la chiusura del reparto nascite dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Il reparto rischia la chiusura e di questo se ne sente parlare oramai già da qualche anno, ma a quanto pare il prossimo 31 dicembre questa chiusura sarà improrogabile, essendo le nascite ridotte al di sotto della soglia minima di 400 parti all'anno, prevista dal decreto Balduzzi. L'appello dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gentile si rivolge alla regione Campania, alla quale chiede la salvaguardia del punto nascita e lancia un appello al governo Meloni e al Parlamento per la modifica della normativa relativa ai punti nascita che si trovano in aree con condizioni orografiche difficili. A sostegno dell'impossibilità di chiudere il punto nascite Gentile avanza alcune criticità che vedono l'assenza di un piano per la gestione della rete delle gravidanze, in particolare per quelle a rischio e la distanza eccessiva della terapia intensiva neonatale di riferimento presso l'ospedale di Battipaglia che dista oltre 130 chilometri dal golfo. Gentile pone in evidenza inoltre che in provincia di Salerno non è codificata tramite la rete 118 la rete di trasporto con eleambulanza e che il punto nascita più prossimo per gli abitanti del golfo di Policastro sarebbe Lago Negro. La chiusura del punto nascite potrebbe così incrementare la migrazione delle gestanti verso la Basilicata. Di qui l'appello alle istituzioni. Anche altri comuni hanno aderito seguendo l'iniziativa di Sapri tra i primi Santa Marina e San Giovanni Appiero.